Questa volta affrontiamo un argomento molto esteso che come al solito mi impegno di ridurre in alcuni punti essenziali su cui poi tu rifletti per conto tuo riguarda la salute e in particolar modo gli incidenti Gli incidenti non dipendono dalla sfortuna Secondo te se uno finisce sotto una valanga è colpa del destino oppure dipende dal suo equilibrio interiore? In che percentuale? Si sente spesso parlare di malattie psicosomatiche ma che cosa significa esattamente? La psicosomatica dimostra che la mente determina il livello di salute del corpo Molti lo sanno ma questo concetto non è ancora abbastanza diffuso Quello che si pensa determina lo stato di salute Almeno il 70% delle malattie sono psicosomatiche Ad esempio malattie da raffreddamento e tristezza sono vicine sono correlate tra loro Pare che le tensioni mentali predispongano alle infezioni Chi non ha un buon equilibrio mentale ha una salute precaria Questo in sostanza è il succo della psicosomatica Ma il discorso non finisce qui Anzi inizia proprio qui L'aspetto più importante e su cui ti invito a riflettere è che chi non ha un buon equilibrio mentale si comporta in modo poco sano Direi che la cosa è evidente Una persona che non è soddisfatta può scivolare in un vizio Lo si dice da sempre Lo si vede purtroppo in una infinità di casi Chi non ha un buon equilibrio mentale si lascia andare Trascura l'igiene, corre pericoli E frequenta anche persone che non sono equilibrate Che peggiorano il suo stato d'animo A poco a poco chi non ha un buon equilibrio mentale Corre rischi sempre maggiori Tra i pericoli a cui ci si espone Ci sono la droga, l'alcol, la delinquenza, il vandalismo Alla base di ogni problema ci sono delle tensioni mentali Droga, delinquenza, vandalismo Non sono prodotti da batteri Non sono la conseguenza di infezioni Poca autostima sviluppa comportamenti poco sani Che degenerano in malattie Come tu sai bene Chi non si stima cerca rifugio nell'alcol O nella droga O si crea un ruolo di forte diventando un bullo Invece chi si stima basta a se stesso Chi non si stima, chi non ha progetti Rischia di sentire il bisogno di rifugiarsi in alcol e droga Uno che sa chi è Uno che ha progetti Uno che sa di avere una missione nella vita Si dedica alla sua missione Non si consuma nel vizio E non ci pensa nemmeno Le circostanze che producono malattie e incidenti Dipendono dalla mente Il fatto di ubriacarsi Di drogarsi Di fare il bullo Non dipendono da alcol, droga e bande giovanili Dipendono dalla poca autostima Dipendono dal fatto che non si sa chi si è Causare incidenti e essere litigiosi Non è un fatto privato È un danno agli altri Certo, uno che non si stima Uno che non ha un progetto Uno che se ne frega di tutto Crea una serie di danni per gli altri Spetta alle persone sane Risolvere il problema Nel loro stesso interesse È il loro diritto difendersi E proteggere il mondo sano Il discorso si allarga Dalla medicina si passa alla sociologia La biologia riguarda corpo e batteri La psicologia riguarda la mente E la sociologia studia anche I comportamenti sociali Che, tra l'altro Fanno amallare E quando ci si domanda Da dove nascono il bullismo Lo stress Occorre cercare Nell'equilibrio mentale delle persone La psicosomatica Considera l'uomo come unità Formata di corpo e di spirito Mettendo insieme questi dati Si direbbe che Gli incidenti sono psicosomatici Ad esempio Guidare pericolosamente È un'abitudine sociale Di chi ha tensioni interiori Le conseguenze però sono pubbliche Il fenomeno può diventare sociale Anche se la causa è individuale In questa ampia prospettiva Si può dire che Gli incidenti dipendono dalla mente La mente di un singolo individuo Condiziona la società Questo succede per i geni Per gli invettori che amano la vita E succede anche per i criminali I pazzi Ogni mente è collegata All'intera società Il fatto di cacciarsi in situazioni pericolose Matura dopo anni di tensioni mentali Quindi vivere con il malumore Con la rabbia Con la tristezza che cerca ristoro e identità Nell'alcol, nella droga Nei comportamenti antisociali E' un problema di tutti La soluzione Migliore il tuo equilibrio mentale Per due ottimi motivi Motivo numero uno Migliore il tuo equilibrio mentale Per evitare i criminali I pazzi Gli spacciatori I deviati Tu meriti di vivere in una società sana Composta da persone oneste Dove i diritti di ognuno Sono garantiti al 100% Dove ogni persona Di buona volontà Può prosperare Motivo numero due Migliore il tuo equilibrio mentale Per essere tu stesso Un punto stabile Ed affidabile Nella società L'altro motivo fondamentale Per cui devi migliorare Il tuo equilibrio mentale E' perché Se sei sotto sopra Irritabile Depresso Sbandato Allora stai spargendo malessere Devi curarti Nell'interesse tuo E nel rispetto degli altri Esistono moltissime tecniche Per migliorare Il tuo equilibrio mentale Ho una buona notizia per te Esistono tante scuole Tanti insegnamenti Tante correnti di pensiero Che possono immediatamente Innalzare la qualità Del tuo equilibrio mentale Usale Anche se ci sono epidemie E abitudini sociali Pericolose Tu puoi essere sano E' tuo diritto Altro punto importantissimo Da prendere in considerazione In un mondo ancora perturbato Da comportamenti dannosi alla vita Tu hai diritto Comunque A una vita sana E' tuo diritto A essere sano Nonostante la confusione E la trascuratezza Generali Quindi Il mio vivissimo consiglio È di sistemare Al più presto Il tuo equilibrio mentale Anche se sei una persona Praticamente normale A posto Ti consiglio Di essere al meglio di te Assumi il controllo Della tua vita Gli incidenti Succedono soltanto Quando si perde il controllo E siccome la mente Influenza La salute E le decisioni La cosa migliore Che puoi fare E mettere in equilibrio La tua mente Scegli uno stile Sano Ottimista E socialmente utile Nel tuo interesse Nell'interesse di tutti E' meglio che tu sia Una persona sana Felice Motivata Una persona che sa di valere E che esprime Il proprio valore Nelle sue azioni Una mente sana Deve accompagnarsi Ad un corpo sano Come dicevano gli antichi Una buona condizione mentale Un atteggiamento sereno La voglia di creare Le soluzioni che servono E quello che ti serve Per vivere bene E per diffondere Il bene nel mondo La medicina Si occupa Della cura del corpo Tu occupati Della prevenzione Delle tue malattie Vivi attivamente Con l'intenzione Di manifestare Il tuo valore Crea un mondo bello Da subito E elimina il concetto Di fortuna Dalla tua vita E scegli di essere Nel migliore dei modi Questo ti mette In riparo Anche dalle cause Degli incidenti E con questo Per il momento Abbiamo finito Non mi resta Che salutarti Ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima